Mentre un vortice depressionario risulta ancora presente sull'Italia meridionale, in fase del graduale colmamento e spostamento verso sud-est, la pressione tende ad aumentare sull'Italia centro-settentrionale. Tale configurazione favorisce sulla Toscana la persistenza di correnti fresche e asciutte dai quadranti nord-orientali. Sabato 7 marzo in Toscana, cielo sereno poco nuvoloso per transito e noquo di velature sul nord-ovest. Venti tra debole e moderati, mari poco mossi sotto costa, mosse a largo, temperature in lieve calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime. Cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia di Lucca, nella Piana temperatura minima prevista 3, massima 16 gradi, in Versilia minima 7, massima 16, in Garfagnana minima 0, massima 12 gradi. DIA 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 Grazie a tutti.